salve a tutti i ragazzi e sono lupi zuma che benvenuti in questo aspetto aggiustato la camera nuovo video di super mario galaxy per la v vabbè per la v ultima volta aveva preso la mega stella ed eravamo sempre compagni del nostro amico stiamo di nuovo con lui sempre metabolic ciao a tutti ragazzi vabbè a me c'hanno la luce del mio nome eh infatti a posto ti conosco ma ah vero cosa? o me ti conosco c'è il canale mio è stata riuscita anche un pranzo si è suggerato ci sono certi bisogni ragazzi che fra qualche giorno o no ma fanno un po' di qualche settimana forse uscirà una sofferta che non si rispondi mai ma è un po' di grande qualcosa non si sa forse forse sicuramente andiamo in questa nuovissima galassia dal bagno del nostro nuovo posto e si chiama galassia polvere di stella eh no 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 ma in che in play da solo l'ho fatto ma in realtà registrando non l'ho fatto ma in realtà registrando non l'ho fatto come come non le reparta me lo ricordo eh, forse era tipo sing no, si chiamava puoi vedere di se non era tipo sing era buon bere di se che canzone calmante c'è una musica che fa rilassare una musica che? che fa rilassare anzi giocarti su Mario i giochi di Mario si alternano nei momenti che ti fanno incavolare e nei momenti che ti rilassa si soprattutto a Mario vabbè se ci sai giocare a Mario non ci sai giocare a Mario tu proprio tu sei un tipo di guerra mi dice giochi spara tutto per essere più preciso si posso a me ok andiamoci a spostare l'altra si si se i fan gli piace e non sono gelosi per quello ah comunque a proposito ragazzi io ho detto su questo episodio che facevo video di One Piece ma ho deciso di non farlo vi spiego perchè non vi arrabbiate per favore ma c'è un motivo valido perchè praticamente One Piece ce ne sono di due di One Piece per la Wii perchè praticamente c'è quello 1 e quello 2 io c'è solo quello 2 quindi inutile fare quello 2 se non non seguite quello 1 prima giusto giusto non è giusto secondo te ah si si c'è ma che se secondo me ci sono dei fatti di One Piece devo saperti a memoria ma ah liberi a metodo dai ok vabbè hai fatto i ghietti si sono intrappolati nel ghiaccio ok li ho liberati tutti dov'è la super stella? buh io che le dovevo sapere scusate mischino ci salto sempre di sopra allora vediamo che dice tan 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 Mario la truppa tua è arrivata non usciamo la scocciatoia per la super stella usa la stella arancio che si trova qua sopra va bene eh si se i fan mi consigliano di farlo si 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 ci farò qualcosa per amichevole c'è diciamo facciamo le sfide semplici però ne farò in molti episodi se vuoi dire in molti episodi? un video dove non fare? io una sei ah forse domani facciamo la trattaglia e buona notte Naruto vabbè facciamo praticamente i personaggi più belli di Naruto fa su che è Naruto dai non diciamo più belli perchè poi ci sono quelli che piace Madara e chi piace Sakura eh ah minato ah minato si eh minato è più forte diciamo non è più forte però vabbè la stella l'abbiamo presa abbiamo preso tutte le stelle argento andiamo a prendere una stella se non cadiamo per carità non cadiamo per favore non abbandonare Mario per favore ok ce l'abbiamo fatta abbiamo vinto ancora una volta abbiamo vinto ma già è finita questa casca si già questo episodio è finito io ti prego quanto ci sto in un episodio io ci sto qualche 2 minuti ma quanto è durato? eh eh vabbè raga lo sai che vi dico? vado a prendere un'altra stella ah qua doveva essere un episodio se ce la faccio però raga dobbiamo fare in fretta dobbiamo fare super veloce ritorniamo in questa calastia dobbiamo essere rapidissimi ok questo episodio si chiama ah devo chiamarle il doppio episodio in questo video attacco alla flotta Kemek porca miseria la migliore il bisogno speciale noi non credo che ce la farà a fallo dai porca miseria tre ore perché che succede? inizia da affrontare il Kemek porca miseria la madre diciamo chi è? chi è? chi è? perché mi sta pure la madre di sotto? il Mario Galaxy si si non cimentano pure i zii i buggini parenti oh ma che è un mal buh mi stava facendo cadere ma che? un coniglio dello schifo un coniglio un coniglio ma che è un coniglio è strano supermano si 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 c'è c'è metri quanti ci vensi proprio che ti spesso c'è perché sono un po' addirittura non so ah spai scusa io non so che dovrei fare c'era una stella lancio bloccata nella forsiere una stella lancio? si in cui lo fa lanciare a Maria nelle altre pezzi di galassia ah si è galassia oh e quindi ah si e che cavolo sto mouse ecco si ma che dobbiamo fare? ah ma che cavolo ma dove siamo finiti? oh pizza qua mi diverto ah che cosa c'è? eh otto minuti già dai ma possiamo fare dai raga ce la faccio secondo te ah si faccio i nuovi di video che sarà male che ammazzo che devo fare? vabbè vita massima per sei diciamo che è così ah abbiamo colpito uno perfetto uccidiamo l'altro ok ecco il nostro boss dai in quindici minuti stanno nove minuti in quindici minuti a voglia di te che sei bella mi piace sai mi sta innamorando ma stanno di che? della madre di chi? no io certe volte faccio battuta a casa ah ah il cuscio il cuscio il cuscio il cuscio il cuscio voglio il cuscio dammi il cuscio ho bisogno abbastanza l'ho colpito ma non so come vabbè comunque andiamo avanti si si non mi hanno capito si muori così si ok già sei curioso ecco che ha fatto moltiplicazione del corpo di due cheme ha preso da naruso sto gioco ha fatto la moltiplicazione del corpo di naruso? si no vabbè di direttamente per gli italiani di tecnica superiore della moltiplicazione del corpo che poi vieni no chi si segue da runo che cosa vuol dire che vuol dire? ma chi non se lo segue cosa? chi non se lo segue di no chi non se lo segue cosa me ne mangi no è successo è successo che ho vinto ce l'ho fatta ecco la nostra bellissima scella come luccica la prendiamo prima che capiscono i minuti ogni volta chi non ha seguito i primi episodi di mario dico che ho un problema con l'account e quindi devo farlo massimo 15 minuti e io non posso ricambiare l'account e rifare tutti i video da capo perchè dopo la fatica che ho fatto dopo i video che ho creato io di di stallone chissà che cosa no no perchè praticamente ne avevo parlato che facevo video di clove non mi ricordo come si chiama e si prese stallone quindi chi si segue i primi episodi lo sa quindi per questo questi due episodi è tutto ho fatto due stelle in un episodio e forse nell'altro lo farò pure questo lo chiamare episodio speciale dovessi no lo chiamare episodio è sempre parte un no faccio due parti in un video parte 1 e 2 ma chiama ma chiama o no ma chiama o no mentre c'è un episodio mentre ne esci quindi dovrò che faria mmm va bene va bene raga per questo video è tutto da Soulufizumaki e Metabolic è tutto spero che vi sia piaciuto la serie per me è tutto vi salutiamo gli e so Metabolic e ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti ciao